Ciao a tutti, sono Nica Perrone, insegnante presso l'Accademia di Cinema e Teatro IDS Academy, con sede a Roma. La nostra Accademia offre un percorso di formazione completo guidato da professionisti del settore. Siamo una comunità accogliente e appassionata, dove ognuno può esprimere se stesso e crescere artisticamente. Ogni studente avrà la possibilità di prendere parte a progetti reali, a performance e a lavorare con professionisti del settore. La nostra Accademia offre anche corsi di regia, di sceneggiatura, di produzione e molto altro ancora. Insomma, potrai esplorare ogni aspetto del mondo dello spettacolo. La nostra Accademia ha un network di contatti nel mondo del cinema e del teatro e può offrirti opportunità uniche e audizioni con professionisti del cinema. Siamo qui per te, pronti a supportarti e a scoprire assieme il tuo potenziale. Ti aspettiamo!